Ospedale Covid che al Fratelli Parla Piano, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe iniziare ad essere operativo da fine novembre, ma è dibattito nella città crispina nelle ultime ore e si è incentrato sul trasferimento della Maugeri da Ribera a Sciacca. Di ufficiale non c'è nulla, lo stesso commissario dell'ASP, Mario Zappia, che ieri pomeriggio ha incontrato a Ribera il sindaco Matteo Ruvolo e poi anche gli esponenti del Consiglio Comunale, ha evidenziato che sta dando seguito a quanto deciso dal Governo regionale. Sono stati avviati i lavori per allestire il reparto Covid da complessivi 60 posti, 40 per la degenza ordinaria, 10 per la terapia intensiva e altri 10 di subintensiva, al primo piano dell'ospedale di Ribera. Sull'ipotesi di trasferimento della Fondazione Maugeri dal Fratelli Parla Piano si registra però la contestazione unanime di amministrazione e consiglio comunale. Per il sindaco Matteo Ruvolo l'attivazione dei posti Covid può e deve conciliarsi con il mantenimento della neuro-riabilitazione. Abbiamo detto al commissario dell'ASP, ma soprattutto all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, con un documento trasmesso in mattinata, che siamo assolutamente favorevoli al Covid, ospita la Ribera, ma che non intendiamo rinunciare per questo al reparto Maugeri, dice Matteo Ruvolo. La richiesta è quella di trasferire la neuro-riabilitazione al terzo piano del Fratelli Parla Piano, attualmente non utilizzato, attuando i necessari interventi per garantire alla Maugeri di continuare ad operare in sicurezza. Lavori per percorsi diversificati e quanto altro è necessario che per il sindaco di Ribera si possono realizzare in breve tempo e parallelamente agli interventi che si stanno attuando per adibire l'intero primo piano dell'ospedale alla cura dei pazienti Covid. La questione però ha generato anche una polemica politica con la Lega di Ribera che parla di tradimento politico-elettorale rispetto a quella che ritiene ormai sia una decisione assunta, ossia il trasferimento della Maugeri dal Fratelli Parla Piano al Giovanni Paolo II. Gaetano Montalbano nella sua pagina Facebook ritiene che sia il colpo mortale per l'ospedale riberese. Di tutt'altra opinione il Movimento 5 Stelle per il quale la questione vera da porre all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza non è cosa vuole farne della Maugeri ma cosa vuole fare del presidio ospedaliero. Non si può continuare con la politica miope, dicono gli esponenti riberesi del Movimento 5 Stelle per i quali solo la riconversione con l'attivazione del reparto di malattie infettive al centro Covid potranno salvare effettivamente l'ospedale di Ribera dalla morte sicura.